Honor sceglie ancora una volta la cornice parigina per lanciare la sua nuova line-up di dispositivi, tre in particolare, l'Honor 200 Lite, il Flat e l'Honor 200 Pro, il fiore all'occhiello di questa triade che vedete tra le mie mani, tutti con un solo obiettivo. Tanta tecnologia ad un prezzo accessibile per tutte le fasce di prezzo, ma soprattutto un occhio ai ritratti professionali, grazie anche alla collaborazione con lo studio fotografico Arcourt Parigino. Questa versione Pro vanta una triade di fotocamera, caratterizzata da quella principale da 50 megapixel, stabilizzata otticamente, un'altra tele da 50 e la grandangolare da 12. E come vedete la resa di questi ritratti è assolutamente incredibile e professionale, semplicemente utilizzando il punto e scatta. Non solo con porto fotografico, perché c'è anche un nuovo design caratterizzato da una doppia texture, una batteria super capiente che si ricarica in soli 41 minuti, un display da 6.7 pollici dall'ottima resa, prestazioni da top di gamma e lato software la Magic OS 8.0 che integra tante funzioni, intelligenza artificiale.